E a chiusura del derby nella capitale, il tentativo di ultra della Lazio di raggiungere i romanisti ha provocato scontri fuori e dallo stadio. Il servizio di Matteo Parlato. Terminato il derby, le tifoserie lasciano lo stadio. Tutto sembra regolare, fin quando un gruppo di ultra laziali prova a entrare in contatto con i tifosi della Roma, provocando l'immediato intervento della polizia. Sembrava che la giornata dovesse finire tranquillamente dopo la partita, invece questo è lo spettacolo che vedete, scontri tra la polizia e i tifosi. Nell'azione mordi e fuggi degli ultra vengono coinvolti i più deboli. Di fatto ci siamo trovati assembrati da un gruppo di scalmanati, che questi avevano bastoni, bombe carta. Quanti erano? Erano tanti, erano tanti che hanno addirittura spostato il transennamento della polizia locale. Lei si è fatto male? A fine giornata si contano sette fermi tra i tifosi della Lazio.